ah cos'hai codio cos'hai mancino oggi ancora mi piace la ferita della madonna e adesso adesso piano piano siccome si fa la crosta fa male eh lo so a me legge 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 frutto 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 di villas e meos ci sei? termine ci sei? oh ma puoi parlare get around oh oh la madonna oh che cazzo che cazzo ridi? senza dicendo che siamo pronti per il pubblico your mommy's bitch ah 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 no forse no forse ci abbiamo due mp e lo guys a me a me piacerei troppo muncone sono andrano mmm hell! vieni vicino ma io mamma o c'è il caro inizio ma che io sono un punto che sto cercando a tre quattro persone ci mettiamo qui e vediamo se vediamo se cerchiamo qualche buco di fuori eccolo ecco prima un secondo se lo prendo in mamma non perdo tempo c'è la stiamo facendo anche per me prende trovato un dito porco dio lo scarro 12 c'è stato un altro scarro te lo prendo di sparar per una più sì sì ma che cazzo lo ha detto croccione si vengono il pispillo mi mi ha preso mi ha preso non mi sale dio porco non mi sale come non ti sa come come non ti sa che a questa età non ti sa non mi dà la sborni a becce a come il boy frame la devi strizzare bene per quello che non ti sa sali sopra vieni con me dal kit allora vieni da me boy frame no 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 grazie aspetta dai lascia sta così aspetta prendete il porto a me non fare il cino non andai tutto a me da lo so che mi vuoi dare il quadro madonna sono qua ecco io finno via di oggi dove va il suo malone dai quindi non c'è stato qua andiamo andiamo alla riscossa all'arrabbi porco dio la roba che c'aveva porco dio buono ma io che ci colicchiamo c'è il vss che adesso ne viene un altro minchia vss buono benissimo per codi e spara tre colpi si blocca tu ricarica o ci sono cecchina passi passi qua tu mi sei che mi sei stato sotto millar lì che io controllo qui non ci penso io mi vedi piccola male hai capito hai capito il finocchio mi hanno presa porco dio lontano che mi era da merda che stanno ti allontano vieni qua noi del dm di metti dietro la piano che porco dio ladro guardiamo con la carriera la carriera ma sta finocchio c'è un gay all'occhio e cazzo lì di pinocchio che ora cazzo stanno che si dice stanno sparata un pochetto besti mio forte controllo io tu mi cazzo lì prima ma come ne ha ma ho appunto ho rotto il cazzo guardando la rega ho rotto il pene occhio che noi ce l'abbiamo bello lungo e grosso c'è attento eh perché se te lo poggiamo minchia non li stanno se te lo poggiamo nell'anno ti passano anche dei morbosi eh eccolo orcoglione stanno sparata occhio il coglione ha preso ormai ci hanno visto qualcuno ha ripreso poi vai dietro vai dietro fermo fermo qui fermo qui san mamma bagassa mimi anche a me occhio non metti lì ci mettiamo da un'altra parte vieni vieni con me andiamo a drop due drop non c'è niente neanche per curare vieni vieni io faccio una campanella e arriva la pietra ci avete la mamma bagassa ci ha tutto mi ha rubato la fica e vieni che ti do perchè io non la dicevi no vieni giù ci dividiamo ah c'è sta un altro c'è anche poca vita ok ok occhio che forse ancora vivo c'è la mamma ah c'è la mamma ah c'è la mamma bagassa vengo 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 è ucciso era ancora vivo vieni che ti do qualcosa io ho fatto tutto questo scritto vieni l'abbiamo avvenuta abbiamo avuto ci abbiamo avuto dopo il proprio vi giù vieni qui ti prendo vieni qui ti prendono lì vieni qui ti prendono lì non significa no figlio di puttana significhe di puttana oh io si io figlio di puttana ma io pure il droga in argentino io figlio di pure mamma mi sveglia figlio di mamma mi sveglia figlio di puttana mamma mi sveglia italiana e mamma noi il pene grosso noi cazzone se te lo mette in bocca a capo minca il minimo ti devono mettere 20 punti in bocca minimo ah è già attirato verso la merda cazzo cazzo non è vero non se la conneccia vede puttana oh vieni poco poco e ride come un mongoloide vieni poco poco oh calmi eccomi cazzo Luciano sto dietro te tranquillo dimmi che c'è toh arrivi ma non arriva ti puoi spara sto mongoloide giuro che se gli lancio una bomba non lo faccio più vive toh ti vedo il caschetto io l'ho lanciato io sto mongoloide ah i tuoi eh sto mongoloide numero 2 di merda tu mare fa la bottana il numero 3 ma qua la gente che c'è stato porco dio vai per stare via mettiti giù spassone da mare mamma da bocchino oh asco però sono venuti loro da nulla ah ce l'hai il caschetto oh parco dio fermo che cazzo ridio fermo fermo la metà fermo rapport hai capito lui ci ha lanciato una bomba si rapporto 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 griffin lo faccio anch'io domani io l'ho bocchetto non vedo parco dio rapporto di rimbolo io che spazio non 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 a rispettare a partire anch'io guardato addio ma lui che ha creato la bomba e questo modo fermo io andiamoci andiamoci con ricordi non salvare la nuova della becchia l'uomo per questo punto cazzo lo salviamo questo salvato non ha buttato ci ha fatto morire anche a noi lo stavamo salvando e ci ha fatto morire anche a noi avevamo tutto altre vedi per fare il bene alla gente dai che scendiamo il letto per fare il bene alla gente e lui ci ha chiesto anche la bomba non dovevamo salvare una figa le mamme da riporti non rispondete il puttana ma non rubato il luth la figata mamme da fratmo diciamo e sta rubato tutto il luth sto coglione oh questa è roba mia ma rubato tutto ma porco dio porco di un dio anche il vero dio è una bomba che devo lanciare oh che sta lanciare un'altra bomba rapporta io mamma riporta a favuggì riporta a favuggì minca ero vicino a te perchè non mi hai curato perchè ha lanciato la bomba guarda è un'altra ero vicino a te perchè mio ne sta favore ero vicino a te perché non mi cura c'è pensavi a prendere tutto ha lanciato la bomba ero vicino a te nei tuoi piedi e saper raccogliendo non c'è il nome cura ti ho curato dopo lui ha lanciato la bomba e ti ha ributtato a terra e sono venuto nei tuoi piedi e non mi cura sto numero tre di merda c'è un piccato e non è tu e arrivo augurario lo dobbiamo denunciare la denuncia la denuncia all'account significa che abbiamo segnalato un moglie davanti giro cangiare il bimbo lavoro noi sbirri io di buttana the letter di euro account e ora account is finisce dove sei ma porca madonna ecco me sto bene ciao tutto per colpa di un mongoloido sono morto ma non ha salato perché io porco dio queste bombe di merda viene mettendo in cura la mamma la faccio no mamma te salva ma la salva lucia vale salvato e vado lasciato in terra ho fatto un uomo di con la bomba luciaio la lanciata io sta botta alla bomba mica io non l'ho salvato l'hai visto e io ho lanciato la bomba ma io prima non l'ho salvato l'hai visto è bravo io ho lanciato la bomba l'ho fatto morire prima però adesso usciamo sennò altrimenti non c'è stiamo per vincere non usciamo lascia di perdere su un uomo di allora lascia di perdere sono primi che non c'è la lancia più la bomba questa quale sta fia per culo perché se non sa che noi altri non reagirà non reagirà non reagivamo l'hai lanciato la bomba al buon volore d'argentino di merda però ci trovano il punto per dire luise santo stefano adesso il tuo profilo argentino di merda argentina e scelte non è più ad essere lungo l'ordine su sto cazzo dove sei eccomi 60 metri invece finita primi rischeri qui noi l'abbiamo vinta merito al nostro nome non mettere la sinistra non mettere dai che cazzo vuoi del merda non ma l'abbiamo fatto tra il legno a molla l'abbiamo fatto 3 da 5 3 3 kg a testa la sua scopata ieri sera molla l'abbiamo fatto